allora mi sembra giovanissimo bello allora no niente faccio questo video per i 1000 iscritti e perché sono stato obbligato tipo da mia sorella che mi ha dato se non fai video di 1000 iscritti sei un imbecille e soprattutto se aspettano un po poi quando sono 2000 non ha più senso farlo allora vabbè a parte ringraziare mi da molto fastidio questo solo a parte ringraziare tutti la cosa che mi fa molto 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 piacere è il fatto che siamo tutti vecchi da fa schifo come me perché controllando l'analytics praticamente oggi ho scoperto che alcuni sostengono sia a causa di alcuni che usano l'account di un genitore però che comunque sia dai 13 14 17 anni siamo tipo il 5 per cento 4,9 per cento e poi siamo tutti vecchissimi e questa cosa mi sta bene no parlato seriamente tipo il 30 per cento sono dai 45 ai 54 anni quindi cambierò nome del canale e con una cosa che va molto di moda adesso dirò ti sblocco un ricordo mi chiamerò così d'ora in poi no allora scherzi a parte mi fa molto piacere comunque sia ma non per un discorso di wow adesso da fare youtuber no non ci penso neanche un lavoro ce l'ho già e non lo voglio fare ho iniziato a fare i video più che altro per presentare i prodotti che facevamo e per far vedere qualcosa di diverso nel senso non qualcosa di diverso perché ormai si è già visto tutto anche perché stiamo parlando di dei ciclomotori che hanno 50 anni quindi in questi anni hanno fatto così tante cose che non è che le scopriamo adesso il format diciamo che mi sarebbe piaciuto portare avanti e che porterò avanti è quello appunto far vedere quei cilindri quelle cose particolari che col tempo inevitabilmente andranno a perdersi perché i forum sono morti già da tempo a parte ciò cross club che car di grazie che ci sia e di conseguenza tutti i vari video e soprattutto le immagini che mi formano caricate con image bambi di shark eccetera 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 poi vanno perse avere un video che ho detto avere un video lo fa diventare diciamo eterno perché anche le foto che poi ci sono spesso su internet di alcuni kit alcuni prodotti alcune elaborazioni che sono state fatte nel tempo fanno un po cagare e quindi quando faccio i video per dimostrazione non lo faccio per dire questo è il più figo di tutti io ce li ho nb io ce li ho e li ho comprati in questi anni non vent'anni fa quando ti tiravano dietro questo nb è importante ma semplicemente per un discorso che alcune cose le tengo alcune cose le uso alcune cose le do via però mi fa piacere comunque sia che rimanga qualcosa nel senso anche negli anni a venire non è che se da domani cosa che è già successo mille volte tipo sui vari forum di scooter scuter no scooter racing eccetera 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 tutte le immagini che c'erano poi sono andate perse comprese per esempio le mie secondo me 90 pagine dei progetto sull'aprile rally e quindi poi diciamo i coglioni e allora cosa di poi ha detto adesso quando trovo qualcosa che so che non lo ritrovo più ci faccio un video così almeno quello rimane se un domani una mattina uno si svegli dice io voglio vedere come era fatto il torriani difficile però potrebbe succedere per qualche malato questo era il discorso altre cose che altri video che vorrei fare in futuro sono piccolissima serie su qualche cilindro del peugeot che ho particolari però una roba molto tranquilla anche perché ne so poco e nulla bari peugeot e moto beccane qualcosina sui garelli anche perché del garelli o qualcosa cose pratiche 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 da fare anche oggi ans ha dato una comunicazione che vengono viene rinviato il test invernale da oggi siamo in zona rossa quindi non so bene le situazioni di Monferraglia come sia sicuramente sicuramente devo imbastire comunque sia il mezzo per fare la Monferraglia quindi un qualcosa sul motore che userò per fare la Monferraglia e sul mezzo che userò per fare la Monferraglia che non so ancora quale sia ci sarà Mattia ha detto che deve Mattia due giorni fa mi ha detto facciamo una serie sul mio Big Depths che uso per fare la Monferraglia il giorno dopo l'ha venduto quindi anche lì faremo qualcos'altro ho cioè di cose da fare ne avremo una quantità infinita il problema è a parte il tempo che il tempo è poco e a parte il fatto che io abito a 80 km da lui e siamo in zona rossa quindi questa cosa qua complica un po' complica molto le cose quindi secondo me nelle prossime settimane ci saranno dei video abbastanza riguardanti appunto cilindri e cose particolari sicuramente uno sul Müller quello che l'altro giorno avevo visto un video di CRMOP e di Carlo che appunto diceva bisognerebbe chiedere a Casella quello un video ci sarà anche perché ce l'ho volevo fare un video questo è anche sul cilindro e mamma di te del Gadello abbiamo comprato un blocco disco rotante mi piacerebbe farlo funzionare non so assolutamente come funziona il disco rotante sia chiaro che per il mal di Dio anche il carter è una maia del ciao funziona come un disco rotante è un disco rotante vero e proprio non l'ho mai non l'ho mai usato preso in mano cose che abbiamo iniziato e non si sa quando finiranno è le slitte adesso poi Mattia oggi lo vedo comunque sia per avere una tempistica delle slitte che in tante me le chiedono non lo so le abbiamo pagate quindi in teoria se tutto va bene arrivano progetto Route 66 è altra cosa problematica perché va fatto fare il riporto al carter per poterlo raccordare ed usare e questo si trova ancora più lontano di Mattia il ragazzo che ce lo fa il rap quindi quello sicuramente è un progetto che di base c'è tutto per finirlo ci vogliono molti soldini molto molto tempo per fare le cose fatte bene e molta molta calma cosa che attualmente non abbiamo e quindi quello è in stand by ma nel senso non muore a nessuno sta in stand by sta lì anche perché ho visto che Route ha fatto già un'altra posizione degli altri cilindri quindi praticamente con lì ce l'abbiamo noi per il resto niente come avete di aver visto quei soldi dei 1000 iscritti mi sono già comprato un'integra non è vero altrimenti l'avrei presa con la guida giusta cioè a destra e bianca non rossa no l'integra ce l'ho da 5 anni e cose da aggiungere penso nessuno i format indicativamente saranno questi giusto per non cadere nelle cose trite e ritrite solite mi piacerebbe molto però c'è utopia proprio chiudere un paio di blocchi per poi andarli a bancare magari da poto probabilmente da poto anche se lui ha tempo ovviamente perché poi il discorso è quello lì per vedere realmente poi quanti cavalli hanno sti chamferi perché poi tutti sparano cifre cose per realtà e qualcosa tipo un 65 75 il depth ormai lo stanno sviluppando in così tanti da così tanto tempo che gente che ne sa ben più di noi quindi lì non ci metto le mani alla fine però un 65 75 le cose da fare sono quelle quindi sicuramente non ci sarebbe problema con lui mi piacerebbe molto farlo e poi spero vivamente che riapra i mercatini non perché voglio andare a vendere ma perché vorrei andare a comprare qualcosina mi piacerebbe anche solo per vedere i soliti matti che che girano nei mercatini sperando che sia Novegro mi piacerebbe fare un video anche su Novegro se si facesse Novegro e poi ragazzi le Monferragli se si facesse una figa a Monferragli o starei bene a meno da fare un weekend però secondo me si parla di aprile aprile maggio una cosa così quindi niente morale della favola l'ambaradano è questo qua vi ringrazio tutti e e niente speriamo che poi sia per il periodo di merda morale della favola in modo da essere un po' più liberi di poter fare qualche video dove si sentono dei motori che girano che fanno cose perché così è abbastanza difficile farli noi come abbiamo detto non facciamo parte di quei youtuber che se vanno in giro possono andare in giro nel sogno di rompecoglioni se esco di casa mi legano normalmente per la mia fortuna quindi ci aggiorniamo un bacione e grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti